La sfida che abbiamo accettato è ricreare un catalogo digitale, un nuovo format di catalogo digitale che diventi uno strumento per i nostri clienti, architetti del paesaggio o chi si occupa di progettazione e realizzazione di aree verdi, di parchi, di giardini, dove le nostre piante siano praticamente digitalizzate per poter essere utilizzate per presentare le nuove realizzazioni in spazi aperti.